Grazie a tutti. E poi quali altri politici lei ha avuto contatti, le sono stati vicini, l'hanno assistito, l'hanno aiutata anche nei vari interventi alla Regione o al Ministero di Roma? Chiarissimo, grazie. Per quanto riguarda il Presidente della Regione non si è fatto vedere, non si è fatto sentire ed io devo dire che ho fatto una richiesta per iscritto, una richiesta formale di essere ascoltato. Il giorno dopo la visita di Gabriele a Caronia perché volevo portare a conoscenza del governatore il problema di Canneto di Caronia. Ho scritto un'email, ho chiamato più volte alla segreteria del Presidente ma non sono stato mai con voi. Germana è venuto? No, l'onorevole Germana... L'accoto, io nomino quelli della zona, naturalmente. No, Germana non è venuto, l'accoto non è venuto, né si è fatto sentire. L'unica persona, il primo tra tutti ad occuparsi del fenomeno di Canneto è stato il senatore Bruno Mancuno. Quindi lei voterà per lui alle prossime elezioni? Sicuramente, guardi. Questo colpo di scena. Sicuramente è una persona che io mi sono trovato vicino. Salto della barricata. Io sono stato chiamato dal Senato, dalla Commissione Senato per essere invitato in Commissione e ho appreso da quella telefonata, che il senatore Bruno Mancuno aveva presentato un'interrogazione. Ha visto che spot che l'abbiamo fatto. Allora, io volevo sentire falliti tra poco. Pezzino, cosa pensa di quello che ha detto la professoressa Livreri? Ci ha capito qualcosa innanzitutto? Parlano in termini scientifici, quindi ho capito solo che fra un paio di mesi riuscirà a dare un risponso. Ma sulle cause ho capito poco. Ma non per colpa sua. Perché, insomma, sono un profano. Ma guardi, io l'ho vista operare là per qualche ora, dentro alle nostre case, mi è sembrata molto convinta di quello che dice. Io sinceramente è una ipotesi che escludo, quella che lei porta avanti, perché io che seguo questo fenomeno da dieci anni, sono d'accordissimo con il signore che c'era seduto prima. Antonio Mazzeo. Sarà la sedia, sarà la poltrona. E sull'ipotesi militare. E sull'ipotesi militare. Ma è vero che è stato avvicinato da un agente meglio qualificato dei servizi in quel periodo? Eh? O no? Ma non ha raccontato, un uccellino me l'ha raccontato. No, è vero, io ho parlato con questa persona. Le ha detto basta così perché ci sono gli americani di mezzo? No, non mi ha detto proprio basta così. Io ho chiesto, ho fatto una domanda e ho detto ma sarebbe possibile che quello che comunque ci sarebbe davanti a noi, parliamo di un segnale che viene dal mare, potesse essere spostato. E lui mi ha detto se chiediamo questo loro ci diranno spostate le case. Gli americani possono tutto. Ma corrispondono le date? Quindi guerra all'Isis, guerra in Libia, guerra all'Iraq, guerra all'Africa. Lei ha fatto un servizio eccezionale. Grazie. Ogni tanto qualcuno mi fa i complimenti. È come se io gli avessi dato i dati. Perché è quello che io penso che ho studiato. Quindi le date corrispondono. Esattamente. E quando l'altro giorno qualcuno disse che c'erano 12 ore di tregua, io tanto convinto ne ero che mi sono messo con la gamba a cavallo. Ai dici fuochi non ci saranno più. Finì poi la tregua e cominciamo di nuovo a bruciare. Falliti. Lei sentiva interessatissimo, incuriositissimo questa vicenda. Il problema più grosso è quello che nel 2014 non si riesce a fare un pool di esperti, un pool di super esperti, che nell'arco di 24-48 ore dia una risposta. Non è che stiamo parlando di cose dell'altro mondo, cose da extraterrestri. Così come quando c'è una strana malattia, i laboratori più grossi del mondo vengono mobilitati per capire qual è la causa, la gente zoologica della malattia. Anche in questo caso si poteva fare la stessa cosa non in dieci anni, aspettando dieci anni, in una settimana, in cinque giorni. Quindi ci sono le potenzialità dal punto di vista chimico, fisico, elettromagnetico. Si poteva fare benissimo. Chiaramente i cittadini in questo caso sono in uno stato di sofferenza psichica notevole, tant'è vero che... C'è un danno biologico, quello che si calcola. Assolutamente sì. Secondo me loro sono nelle condizioni per fare una class action, per chiedere il risarcimento per i danni psichici che hanno subito in dieci anni. I medici ambientalisti sono a loro disposizione? Sicuramente sì, a Palermo c'è un gruppo di medici, l'associazione italiana medici per l'ambiente, in particolare il professore Ernesto Burgio, che a livello scientifico è una persona che sicuramente potrebbe appoggiare in maniera veramente notevole, potrebbe dare un aiuto fantastico. Però secondo me già ci sono i temi per la class action, sia lì che nella zona del comprensore di Milazzo. Perché chi aveva mandato l'email, chi aveva mandato il messaggio, ha chiesto quali possono essere le conseguenze sulla salute nel comprensore di Milazzo. Non mi anticipi, non mi anticipi la scarretta, perché adesso torniamo sul comprensore di Milazzo. Messaggini? Parlano del comprensore di Milazzo? Leggiamolo, leggiamolo e poi andiamo alle altre schede. Prego. Ma ricordo male, lo scorso anno, un studio del Policlinico dimostrò che nella vallata del Mela i bambini avevano malformazione agli organi genitali. Che cosa ne è stato di questo fatto da allora? Poi un messaggio proprio per il senatore Mancuso. Ma il senatore Mancuso non è un parlamentare che appoggia la coalizione di governo. E questo governo, a suo avviso, sta facendo abbastanza per la provincia di Messina, visto che a Caronia il sindaco deve pagare da solo le spese, che a Stavonara 230 persone sono praticamente fuori da casa senza sussidio e a Milazzo le persone si sentono come top in trappola. Non era meglio Berlusconi? Alex Drastico. Alex Drastico. Questa è una considerazione pubblica, poi lo facciamo rispondere. Ce ne sono ancora? No, per ora no. Allora, a proposito della scheda che citavano i nostri telespettatori, siamo in contatto telepatico. Noi ce l'abbiamo quella scheda, realizzata durante una precedente trasmissione, il dossier di squadrito, il famoso dossier squadrito che abbiamo in scaletta al terzo posto. Non c'è? Non c'è il dossier di squadrito? Dopo? Lo facciamo dopo? Le interviste ce le possiamo sentire ora? Qua decidono gli altri per me. Ci sentiamo le interviste dalla trasmissione di un anno fa, perché sono testimonianze che riguardano la vallata del Mela, dove non c'è solo la raffineria, ci sono altre industrie, c'è l'elettrodotto che incombe. Pensate che a pace del Mela c'è una via, che chiamano la via delle parrucche, e non perché ci siano delle attrici ad abitare questa via, ma perché ci sono parecchie donne, o ci sono state, ahimè, malate di leucemie, e quindi cadono i capelli per la camioterapia e devono indossare le parrucche. C'è una Angela Bianchetti, una consigliera comunale che si batte proprio per queste donne, per pace del Mela. Sentiamo padre Trifirò, che è un parroco che si batte anche per Milazzo, era proprio in testa a questo corteo che hanno organizzato qualche settimana fa. Lui ogni mattina va a trovare le persone, gli abitanti di pace del Mela, di San Filippo del Mela, di Milazzo, malati di tumore. Sentite padre Trifirò cosa raccontava qualche mese fa. Si muore, e purtroppo si muore di inquinamento a tutte le età, anche i salopiglianti piccoli attualmente, non solo i giovani. Lei va a visitare quotidianamente i malati, malati di tumore, ce ne sono molti da queste parti? Moltissimi malati di tumore, diversi tipi di tumore, specialmente quelli più giovani. Lei ha fondato anche un comitato, in passato ha fatto grandi battaglie, ne è valsa la pena? Io da 36 anni lotto sempre, perché sono stato prima parroco ad Archi, e poi anche a pace del Mela, sono le zone più inquinate. Abbiamo cercato sempre di pallare, di interpellare i nostri politici per il risanamento. Per il risanamento non trovano mai tempo, nessuna risposta. Per massacrare il territorio, per inquinare, da oggi a domani sono celeri, celerissimi. E cosa è cambiato da 36 anni a questa parte, da quando hanno iniziato le sue battaglie? Il clima è cambiato dappertutto. Dalle nostre parti ormai non c'è più né agricoltura, non c'è più salute, non c'è più lavoro. Queste industrie adesso vanno perdendo, vanno chiudendo, e gli operai vengono licenziati. Qui abbiamo la beffa, la malattia, la morte e la disoccupazione. Di conseguenza la fame e parecchie persone, specialmente di Archi, scappano, se ne vanno via. Fra quelli che muoiono, quelli che si sposano, se ne vanno altrove, perché non è un territorio dove veramente può vivere l'uomo. Questo elettrodotto in che posizione la vede? Questo che vorrebbero, che stanno facendo? Sì, l'elettrodotto continua a portare più inquinamento, oltre quello che c'era. Innanzitutto siamo sicuri che porterà delle malattie dove passa, perché le persone devono stare attenti, ma ciò che succede in un minuto non può succedere in 20 giorni. E quindi siamo tutti a rischio. Con questo elettrodotto hanno distrutto ancora quel poco di terreno, di campagna che c'era per la coltivazione, e quindi è un massacro. Pensano soltanto a produrre pelli, impinguarsi sempre di più, e la popolazione ci va sempre di mezzo. Fanno delle leggi al loro uso e consumo. Le leggi sono sempre per i più forti. Il più debole va sempre scacciato, messo sotto terra, sotto i piedi. Sentito, senatore Mancusi, il più debole va sempre scacciato, fanno delle leggi al loro uso e consumo. Questo era padre Trifirò. Io mi sentirei anche Lino Andaloro, che è un medico consulente dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ci disse proprio in quell'occasione delle cose interessanti sull'andamento di alcune patologie nella vallata del Mela. Poi Gianfranco Cusumano ha da specificare delle cose, ma dopo la scheda del professore Squadrito, che riguarda il famoso dossier Squadrito. Sentiamo, non c'è, non ce l'abbiamo andaloro, la scheda di Squadrito, cosa volete che io possa... Vabbè, Cusumano, il dossier del professore Squadrito diceva... Sono occupato più volte, diciamo, è anche un cavato di battaglia di centralisti, però c'è un piccolo particolare che potrebbe anche dare una lettura diversa. No, non è un particolare da niente, prego. Ecco, era ironico. Certo. Nel senso che la determinazione Squadrito, legata al problema che i bambini avevano problemi all'apparato genitale, è legato al cadmio. Ora, né la raffineria di Milazzo, né l'Edy Power, la centrale termoelettrica, trattano o emettono nell'aria questo tipo di elemento chimico. Perciò, evidentemente, lo stesso Squadrito, visto che a Milazzo gli ambientalisti avevano, diciamo, già attribuito le cause alle industrie un po' più importanti, Squadrito, a Palermo, durante un incontro con i Cinque Stelle, se non ricordo male, ha chiedito questo passaggio ed evidentemente le cause sono da attribuire ad altre industrie del territorio. Sì, perfetto, comunicavo con i miei registi. Sentiamo il nostro falliti medico ambientalista. Lei conosce il dossier Squadrito, conosce la situazione. Di cosa si muore nella vallata del Mela? Intanto gli studi che sono stati fatti nel corso di tutti questi anni sono degli studi che sono decisamente incompleti. Però, a fronte di questa... Volutamente incompleti o decisamente incompleti? Decisamente. Volutamente non credo, perché ogni ricercatore, ogni operatore della sanità che investe se stesso il proprio tempo e la propria cultura in uno studio scientifico lo fa più perché ha un indirizzo particolare che non perché venga incaricato di fare qualche cosa. Gli studi che attualmente ci sono a conoscenza di tutti, lo studio Sentieri, il dossier dell'osservatore epidemiologico regionale, gli studi dell'OMS, sono degli studi che sono parcellizzati, degli studi che sono soltanto fatti su cohorti di popolazione, sugli ospedalizzati. Non esiste, questo è bene che si sappia, non esiste il registro dei tumori perché non è mai stato affrontato questo problema in maniera sistematica. Quelli che sono attualmente i dati sono dei dati che riguardano la prevalenza, non l'incidenza. Quindi delle cose che riguardano una parte della popolazione. È chiaro che nel corso di tutto questo tempo, di tutti questi anni, ne sono venuti fuori tanti di studi, non uno soltanto. Allora, uno studio parla di sregolatori endocrini e questo si sapeva già vent'anni fa ed era un allarme che era stato lanciato dalla WHO, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che sono delle sostanze che modificano gli ormoni normalmente presenti nell'apparato, nell'organismo umano. Quindi simulano una azione degli ormoni e poi questa simulazione fa sì che i veri ormoni non agiscono negli organi che devono agire. E perciò ci sono tanti ipotiroidismi, tante malattie dell'atiroide. È quasi superfluo che io le chieda cosa fa più male, a suo avviso. È un cocktail di sostanze che... Allora, una volta un professore americano mi disse, io chiesi, professore, ma questa sostanza, questo farmaco, che cosa fa sui linfociti? Lui mi disse, che sono delle cellule bianche del sangue, mi disse, lo vedi quell'armadietto con tutte quelle sostanze chimiche? Ognuna di quelle armadiette, ticlis, solletica l'organismo. Perciò non esiste soltanto una sostanza. Ho detto bene, quindi un cocktail. Un cocktail di sostanze. Però a fronte della notizia che una sostanza è cancerogena, non esiste una quantità che possa fare male. Questa sostanza è cancerogena in quanto in quanto fautrice di tumori. Perciò se noi sappiamo che nel nostro territorio ci sono queste sostanze, non è importanza la quantità. Deve valere il principio di precauzione. Nelle more che queste sostanze continuano ad agire provocando patologie, devono essere assunte quelle iniziative perché queste sostanze non mi sono più emesse. E quindi? Andrebbe chiusa qualcuna dell'industria? Andrebbe ridotta l'emissione? Tu sai, mi dai là se dici una cosa di questo tipo perché io quando dico che per me le industrie devono essere chiuse, riconvertite e bonificate intendo dire che per altri 30 anni, 40 anni le stesse persone che oggi lavorano in queste industrie possono essere impiegate per la riconversione delle stesse industrie e vengono creati altri posti di lavoro. Riconvertite in costa? Non 600. Guarda, se ti dovessi fare l'elenco delle cose che c'ho in testa penso che la trasmissione durerebbe fino a domani mattina. Professore Falliti Dicevamo all'inizio della trasmissione che in Italia hanno chiuso 5 raffinerie nell'ultimo anno e mezzo Cos'è arrivato al loro posto? No, è a posto sostanzialmente sono state chiuse ma sono diventate depositi non sono stati non è stato bonificato nessun territorio e la forza lavoro è stata ridimensionata ad esempio se dovesse chiudere la fine di Milazzo diventerebbe deposito al 90% e invece di 600 dipendenti ne basterebbero 100-150 Ok, questo discorso è un discorso che però è un discorso troppo terra terra fatto così permettimi già franco perché intanto noi non dobbiamo partire da quello che è successo il 27 perché sarebbe troppo facile io non sono qui per fare terrorismo e non l'ho mai fatto il terrorismo ambientale siccome nel 1989 la popolazione della Valle del Mela ha dato un segnale alla politica il segnale era che non si voleva trasformare a carbone in una centrale termoelettrica quindi significava che non si volevano altre presenze industriali nel comprensorio questo segnale doveva essere recepito dalla politica la politica prendeva questo segnale e diceva ok, abbiamo del tempo per programmare il territorio in funzione della vocazione grazie e questo è quello che si deve fare il tempo c'è volevo spiegare ai nostri telespettatori la sua professione altrimenti il medico ambientalista pensano che sia il medico di base cosa fa? è primario? io sono direttore della patologia clinica del laboratorio analisi dell'azienda Pavardo Piemonte perfetto questo per far capire ci sentiamo Lino Andaloro abbiamo trovato l'intervista l'aria che uccide sentiamoci questo è un fatto più che conosciuto da oltre un decennio più che conosciuto diciamo non solo dagli addetti ai lavori ma anche da chi ha la responsabilità della salute pubblica ma è evidente l'indagine epidemiologica seria qui è stata mai fatta si è mai capito quanti morti di tumore ci sono stati in questo territorio questa indagine la fa istituzionalmente ogni anno l'osservatore epidemiologico regionale che raccoglie i certificati di morte di tutti i siciliani e raccoglie le dimissioni ospedaliere quindi con la diagnosi di tutti i siciliani ed è più che noto sono dati a disposizione di tutti chi non li vuole conoscere non li conosce c'è anche chi fa finta di non conoscerli quindi quasi muore ci sono più case di tumore è questo che vuole dire è dimostrato ci sono almeno cinque tipi di neoplasie che da queste parti hanno una mortalità più elevata rispetto ad altri comuni della provincia di Messina della Sicilia e dell'Italia determinate da cosa da che tipo di inquinamento probabilmente da un cocktail micidiale perché noi qui abbiamo in quest'area sia l'inquinamento dell'aria che quello dell'acqua che quello dei suoli il principale killer pare che siano le polveri sottili il cosiddetto PM2.5 che è costituito in gran parte da metalli pesanti metalli pesanti che si trovano praticamente ovunque diffusi nel nostro ambiente e così come è dimostrato ultimamente dallo studio del professore Squadrido si trovano anche nell'organismo dei bambini di questo territorio ma non solo dei bambini dei bambini perché si studiano i bambini possiamo studiare qualunque categoria di età i bambini certo fanno più impressione perché oggi sono bambini e saranno i malati di domani il dossier del professore Squadrido mette in evidenza anche delle anomalie che riguardano l'apparato riproduttivo dei bambini e questo è molto grande è chiaro perché i metalli pesanti agiscono da distruttori endocrini cioè agiscono da da fattori che danneggiano il DNA dei bambini ma anche il DNA degli adulti in ogni caso il DNA dei bambini fa notizia perché i bambini fanno preoccupare maggiormente e questo era Andaloro consulente dell'organizzazione mondiale della sanità e allora Giussi ci sono dei messaggi che riguardano Saponara perché la presenza probabilmente del capo della protezione civile l'ingegnere Manfred ha attirato gli abitanti di quella zona io volevo sentire Alfredo Schivani velocemente perché siamo in chiusura di Confindustria un'azienda in generale vuole delle regole per poter stare sul territorio eccetera eccetera la raffineria ha queste regole se le impone gliel'ha imposta l'ARPA o chi per lei le ha rispettate allora il problema è questo se queste regole non sono più quelle valide perché poi c'è pure il discorso che non vengono neanche presi in considerazione i dati dell'ARPA perché non si ha fiducia più nell'ARPA e questo voglio dire è una dicotomia che voglio dire però voglio dire se mi date delle regole io ve le rispetto voglio dire io sono in regola non mi potete dire niente fermo restante i drammi della popolazione eccetera è questo se ci sono le regole le aziende che insistono sul territorio di Giammoro le rispettano vanno rispettate pure le aziende grazie grazie Schipani senatore Mancuso chiamava in causa falliti la politica lei lo ha già detto in pratica la riconversione è impossibile a suo avviso di tutte queste industrie guardi la riconversione è negli accordi è scritta qualora è chiaro che ci sia un calo della produzione per quel tipo di stabilimento oppure se lo stabilimento l'attività produttiva non rispetta quei minimi requisiti di idoneità e di salubrità che devono essere assolutamente garantiti allora io dico in questi casi se i ricavi dell'azienda sono 100 probabilmente dovrebbero diminuire e investire di più nella prevenzione nel monitoraggio nella tutela della salute pubblica però coniugare l'attività produttiva con la salvaguarda della salute pubblica credo che sia un principio assolutamente importante grazie chiaro chiaro senatore Giussi abbiamo dei messaggi che riguardano l'alluvione perché tra l'altro ahimè nelle ultime ore si è verificato un alluvione in Liguria c'è stata una vittima e tanti sfollati danni la cosa la cosa che mi ha colpito è che vedevo i servizi dei Tg nazionali c'erano 36 milioni pronti dovevano essere spesi per mettere in sicurezza i torrenti e le zone già alluvionate non sono stati spesi per problemi di contenzioso e di burocratici e invece qua a Messina sono stati spesi se non sbaglio a Giampilieri e a Scaletta i cantieri tra l'altro in gran parte come dire guidati coordinati dal genio civile dall'ex ingegnere Sciacca per 60 milioni sono stati quasi tutti ultimati quasi tutti ultimati Giussi messaggi domanda per Bruno Monfrè ma che ce n'è stato o che ne è stato della legge annunciata da Crocetta sulle vittime dell'alluvione che ne è stato degli studi e della messa in sicurezza di Saponara Mario ingegnere Monfrè a Genova un morto feriti e distruzione l'allerta non sarebbe arrivata in tempo e a Messina l'allerta arriverebbe in tempo ci spiega se a Saponara o in altre zone della provincia sono sicure come funziona il sistema di allerta funziona così c'è l'emanazione del bollettino da parte del dipartimento regionale dopodiché le amministrazioni locali attuano le attività previste nel piano compresa l'informazione della popolazione compresi i presidi territoriali compresi tutte quelle attività che servono per poter Saponara è più sicura? Saponara in questo momento è nelle condizioni praticamente analoghe a quelle di prima perché interventi ancora a parte piccole cose non sono stati fatti abbiamo avuto ritardi a proposito del discorso della burocrazia è chiaro mettono le somme nell'ordinanza ma non le assegnano quindi per i 230 sfollati è chiaro è chiaro che non c'è la possibilità di poter fare se li pagano da soli i 230 sfollati i soldi per l'autonoma attualmente non c'è copertura ulteriore dopo la scadenza e l'ordinanza sulla legge lui non è politico la domanda siciliana le somme arrivate per Saponara sono le somme per pagare tutte le somme urgenze e tutti i contributi dell'autonoma sistemazione per il primo anno quelle sono arrivate il resto è arrivato soltanto qualcosa adesso da poco non da molto e quindi le difficoltà noi come dipartimento nell'attuare l'ordinanza le abbiamo avute e continuiamo ad averle sulla legge Crocetta lei non può rispondere la Crocetta aveva annunciato un disegno di legge che equiparasse le vittime dell'alluvione alle vittime di mafia questo per dare un posto di lavoro magari ai superstiti so che c'è qualche difficoltà sotto questo aspetto ma non conosco l'aspetto tecnico per questa equiparazione a proposito dell'alluvione c'è un appuntamento importante a proposito della sicurezza sì il dipartimento nazionale ha programmato in 11 città nazionali e una di queste è Messina un'attività di informazione alla popolazione con il supporto delle associazioni di volontariato per cui nei giorni dell'11 e 12 di ottobre a Piazza Chiaroli ci sarà uno stand dove ci sono diversi volontari che sono stati formati proprio per dare informazione alla popolazione proprio sul rischio alluvione su ciò che sul territorio del comune di Messina oggi noi abbiamo anche ovviamente col supporto dei documenti che sono inerenti alla pianificazione d'emergenza del comune bene noi naturalmente all'alluvione dedicheremo altre puntate c'è questo anniversario a novembre tristissimo che riguarda Saponara speriamo di non raccontare più eventi del genere grazie a tutti gli ospiti che sono intervenuti grazie a voi per averci seguito a venerdì buonanotte e per te per me per la figlia dell'Ure e per te per me e per te per me per la figlia dell'Ure la taranza peccamo e tipici calumbo e per te per la figlia Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti